Che cos'è uno tsunami? È una serie di onde generate dallo spostamento improvviso di un grande volume d'acqua, generalmente in un oceano o in un lago. Uno tsunami, detto anche maremoto, può essere causato da un forte terremoto in mare o sulle coste, da una frana, sottomarina o costiera, da un'eruzione vulcanica e perfino dall'impatto di un grande meteorite in mare, anche se questo avviene molto raramente. Tsunami è una parola giapponese, che significa onda di porto, e in effetti il Giappone è uno dei paesi al mondo più colpiti dal fenomeno tsunami. Ricordiamo tutti, ad esempio, il grande maremoto che ha devastato le coste giapponesi a seguito del terremoto di magnitudo 9 avvenuto l'11 marzo del 2011 a largo dell'isola di Honshu. Abbiamo detto che gli tsunami possono essere generati da diversi fenomeni naturali, ma quelli di origine sismica sono i più frequenti, circa l'80%, e i più grandi sono spesso generati da terremoti di subduzione, ovvero i terremoti che avvengono laddove le placche oceani che incontrano quelle continentali, presenti ad esempio lungo l'anello di fuoco dell'oceano pacifico o nell'oceano indiano. I più forti terremoti del mondo avvengono molto spesso in mare, quindi, o in prossimità di esso, come in Giappone, in Sud America, in Alaska, in Nuova Zelanda nell'oceano pacifico e in Ondonesia nell'oceano indiano. Abbiamo notizie storiche di grandi terremoti e tsunami avvenuti nei secoli passati in molti dei paesi citati. Tsunami grandi e piccoli possono avvenire però in tutti gli oceani e i mari del mondo. Il più grande terremoto conosciuto da quando esistono gli strumenti per misurarli, cioè i sismometri, è quello avvenuto in Cile nel 1960. con una magnitudo di 9.5. Quell'evento sismico rilasciò un'energia gigantesca e generò un grande tsunami, che colpì non solo le coste del Cile e del Sud America, ma viaggiò attraverso l'oceano pacifico, colpendo, oltre 20 ore dopo, anche le coste asiatiche, come quelle del Giappone. Come possiamo difenderci dagli tsunami? A metà del secolo scorso, dopo alcuni forti terremoti avvenuti nell'oceano pacifico, nacque alle isole Hawaii il primo sistema di allerta tsunami del mondo. Le allerte si basavano sulla stima rapida della posizione del terremoto, ovvero l'ipocentro, e sulla stima della magnitudo dello stesso, utilizzando le reti sismiche globali. Tale sistema era in grado di inviare l'allerta alle coste dei paesi che si affacciavano sull'oceano prima che le onde di tsunami lo raggiungessero. Ancora oggi i sistemi di allerta tsunami, chiamati tsunami early warning system, si basano sullo stesso principio. A parte l'oceano pacifico, gli altri mari e oceani sono rimasti senza sistemi di allerta fino a meno di 20 anni fa. Il 26 dicembre del 2004, infatti, un altro grandissimo terremoto, questa volta di magnitudo 9.2 avvenuto nell'oceano indiano, ha generato un gigantesco maremoto che ha portato distruzione lungo le coste dell'Indonesia e, nelle ore successive, anche negli altri paesi che si affacciano sull'oceano indiano, come la Thailandia, l'India e addirittura lungo le coste dell'Africa orientale, dall'altro lato dell'oceano, molte ore dopo il tempo origine del terremoto. Nessun sistema di allerta era funzionante in quegli anni nell'oceano indiano e nessuno porté purtroppo avvisare gli abitanti di quelle regioni. Morirono così oltre 200.000 persone. La lezione imparata da quell'esperienza ha fatto sì che nascessero però altri centri di allerta in tutti i mari del mondo, compreso il Mediterraneo e quindi i mari che circondano l'Italia. Gli tsunami possono avvenire anche nel Mar Mediterraneo, quindi. E infatti il nostro mare ha una storia sismica e di maremoti molto ricca, con oltre 200 tsunami catalogati dagli studiosi nel corso della storia. Alcuni di questi sono stati distruttivi e sono avvenuti principalmente in Grecia, in Italia, in Turchia, lungo le coste del Mediterraneo orientale. Le coste italiane maggiormente esposte a rischio maremoto sono quelle a sud della penisola, dove storicamente, ma anche di recente, si sono verificati mari moti di entità differenti. Tra i maremoti più distruttivi avvenuti, il secolo scorso vi è quello di Messina, nel 1908, che ha colpito le coste della Calabria e della Sicilia, provocando migliaia di vittime. E più recentemente il maremoto di Stromboli, causato questa volta da una frana lungo la scera del Fuogodo. Le coste italiane sono comunque esposte agli effetti dei maremoti, che avvengono in tutto il bacino mediterraneo. Negli anni seguenti lo tsunami del 2004 avvenuto in Indonesia, con il coordinamento dell'UNESCO, anche i paesi che si affacciano sull'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo hanno iniziato a collaborare per mettere in piedi un sistema di monitoraggio dei forti terremoti, basato sulle reti sismiche esistenti e in grado di fornire in tempi rapidi dati utili per un'eventuale allerta a tsunami. Dopo diversi anni di lavoro si è riusciti così a costituire un sistema di allerta per la zona del NEAM, ovvero del nord-est atlantico e del Mar Mediterraneo. Si chiama NEAM Tsunami Warning System e ha iniziato a operare nel 2013, dopodiché è diventato pienamente funzionante e operativo nel 2016-2017. Nel 2018, poi, grazie alla collaborazione con diversi istituti e centri di ricerca europei, è nata la prima mappa di pericolosità da tsunami per la regione del NEAM. L'Italia ha individuato negli NGV il National Tsunami Warning Center, che opera nell'ambito del SIAM, ovvero il Sistema Nazionale di Allertamento Maremoti Generati da Sisma, coordinato dal Dipartimento di Protezione Civile e con l'ISPRA che gestisce la Rete Mariografica Nazionale. Dal 2013, il Centro Allerta Tsunami dell'INGV, il cui acronimo è CAT, è uno dei centri che inviano messaggi di allerta per tsunami generati da terremoti nel Mar Mediterraneo. Molti paesi europei, africani e asiatici ricevono oggi messaggi di allertamento del CAT dell'INGV. Le coste del Mediterraneo sono state interessate nel corso dei secoli da numerosi eventi di maremoto, principalmente legati all'elevata sismicità dell'area. Dopo lo tsunami del 2004 in Indonesia, l'Italia ha partecipato alla costituzione di un sistema di allertamento per l'area mediterranea e successivamente ha lavorato alla costituzione di uno specifico sistema per il nostro paese. Nel 2017 in Italia è stato istituito un sistema di allertamento per i maremoti finalizzato a organizzare e gestire l'allertamento per tale rischio. Attraverso la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 è stato quindi formalmente costituito il SIAM, sistema di allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma nel Mar Mediterraneo. Il SIAM è composto da tre istituzioni che con compiti diversi concorrono sinergicamente all'attuazione di un comune obiettivo, allertare nel minor tempo possibile con gli strumenti disponibili gli enti, le amministrazioni fino a quelle territoriali potenzialmente coinvolte da un evento di maremoto. Nello specifico l'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che opera attraverso il Centro Allerta Tsunami, valuta la possibilità che un determinato terremoto con epicentro in mare o nelle immediate vicinanze possa generare un maremoto e stima i tempi di arrivo attesi lungo le coste esposte. L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, fornisce i dati registrati dalla Rete Mareografica Nazionale al Centro Allerta Tsunami dell'INGV, ai fini della conferma o meno dell'eventuale maremoto. Il Dipartimento della Protezione Civile ha il compito di assicurare l'allertamento delle strutture e componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile attraverso la diffusione di una specifica messaggistica. Per le allerte maremoto che potrebbero interessare le coste italiane, quindi la messaggistica è inviata in automatico attraverso una piattaforma tecnologica agli enti e alle amministrazioni raggiungendo il livello comunale, cioè quello più vicino al cittadino potenzialmente coinvolto. Ciascuno degli enti allertati risponde attivando le proprie procedure di emergenza. Come opera il Centro Allerta Tsunami dell'INGV? Il CAT effettua il monitoraggio e la sorveglianza con personale specializzato formato da ricercatori, tecnologi e tecnici, presenti a turno, giorno e notte, 365 giorni all'anno, nella sala di monitoraggio sismico e allerta tsunami dell'INGV a Roma. Ogni volta che avviene un forte terremoto in mare o vicino alle coste, entro pochi minuti viene inviato un primo messaggio di informazione o allerta alla protezione civile nazionale e ai paesi del Mediterraneo interessati. Questi messaggi riportano il livello di allerta lungo le coste e il tempo di arrivo teorico di uno tsunami nel caso fosse generato. Non è detto infatti che ogni terremoto, anche se forte, possa generare un maremoto. Dipende da vari fattori come la profondità dell'ipocentro, il tipo di movimento della faglia che ha provocato il terremoto e altri fattori. Soltanto l'analisi dei dati del livello del mare, effettuata dai mareografi presenti lungo le coste, permette infatti di verificare se uno tsunami è stato effettivamente generato. Per questo motivo, i turnisti del CAT, appena inviato il primo messaggio di allerta, analizzano i dati delle reti mareografiche presenti, a cominciare da quelle più prossime all'epicentro. Se si registra un'anomalia, cioè se il livello del mare cambia rispetto allo stato normale, viene inviato un secondo messaggio di conferma dell'allerta. In caso contrario, l'allerta viene revocata. Ma come ci possiamo difendere dall'impatto di uno tsunami? Innanzitutto con la conoscenza. Sapere che esiste un pericolo è il primo passo necessario per difendersi. In secondo luogo, è molto importante sapere come dobbiamo comportarci nel caso in cui ci si trovi vicino alla riva del mare e si riceva un'allerta, ad esempio tramite il segnale acustico delle sirene e con un messaggio sul cellulare. È anche molto importante saper riconoscere segnali naturali che possono precedere uno tsunami, come per esempio un ritiro inusuale del mare, un rombo che proviene dal mare aperto, oppure quando si avverte un forte terremoto con uno scuotimento che persiste per molti secondi. In questi casi bisogna rapidamente allontanarsi dalla costa e seguire le indicazioni di protezione civile. È molto importante lavorare per organizzare un'efficace risposta di protezione civile ai vari livelli istituzionali. Nel 2018, ai fini della salvaguardia della popolazione presente lungo le coste esposta a tale rischio, attraverso un decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono state emanate le indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto. Lo scopo principale del provvedimento è stato quello di fornire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi a comuni, regioni, vigili del fuoco, capitanerie di porto, solo per fare qualche esempio, gli elementi utili all'elaborazione di procedure e piani di protezione civile. Un'informazione essenziale alla base di tali pianificazioni è l'individuazione delle aree costiere potenzialmente interessate dagli eventi di maremoto. Tali aree sono disponibili sul sito dell'ISPRA e sono state elaborate grazie alle conoscenze della nostra comunità scientifica relativa alla pericolosità da maremoto e alle caratteristiche morfologiche delle coste. Le mappe di inondazione da maremoto proiettano queste informazioni sui vari tratti costieri in funzione dei due livelli di allerta su cui si basa il SIAM. Un livello più severo, l'allerta rossa, indica che le coste potrebbero essere colpite in maniera più estesa e un livello meno severo, l'allerta arancione, che indica che i tratti di costa potenzialmente interessati sono più ridotti. Anche per la risposta di protezione civile è essenziale che i cittadini siano consapevoli e sappiano come comportarsi. Ciascuno di noi però deve essere protagonista nell'importante azione quotidiana per la riduzione del rischio. Grazie. 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 Grazie.